Lucca e Massa Carrara, sì. Arezzo, con i comuni di Castelfo Cognano e Civitella in Valdichiana, no. Per il momento non ci sono i comuni dell'Aretino colpiti dalla tromba d'aria del 2 novembre scorso nella lettera inviata al capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per inserire nello stato di emergenza i territori esclusi in un primo momento. A chiederlo erano stati gli stessi enti locali e anche il Consiglio regionale aveva presentato una richiesta bipartisan. Nella lettera del Presidente Gianni sottolinea come nell'immediatezza dell'evento la Regione avesse provveduto a richiedere lo stato di emergenza di rilievo nazionale per i territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. L'evolversi del fenomeno, scrive Gianni, e il successivo inquadramento delle segnalazioni e delle valutazioni provenienti dalle amministrazioni locali ha messo in evidenza come gli eventi abbiano causato criticità e danneggiamenti anche nei territori delle province di Lucca e Massacarrara. Non si fa dunque menzione dei comuni dell'Aretino, eppure anche qui le persone e le aziende hanno subito danni davvero importanti. A Pieve al Toppo, comune di Civitella in Valdichiana, c'è stato un calzaturificio travolto da un pino e dichiarato inagibile. Oltre 10 persone sono attualmente senza lavoro. A Pieve a Socana i tetti sono stati tutti divelti ed è stato colpito anche l'asilo nido. Il sindaco di Castelfo Cognano si esprimeva così qualche giorno fa durante l'invio della lettera appunto al presidente Gianni per la richiesta dello stato di emergenza. Questa lettera inviata al presidente della regione Gianni e per conoscenza alla difesa del suolo e alla protezione civile della provincia di Arezzo serve chiaramente per interessare la regione che anche noi dovremmo essere inseriti nell'elenco dei comuni che hanno subito danni perché sostanzialmente le nostre famiglie chiaramente hanno avuto dei danni ingenti. Nella lettera che ho inviato al presidente è circostanziata un po' tutte le criticità che abbiamo avuto. Credo che noi non siamo cittadini di Sarebi i danni li abbiamo avuti come gli altri anzi solidale per tutti i danni che sono stati procurati nella provincia di Prato che è assolutamente grave perché ci sono stati anche dei morti e lì purtroppo la situazione è ancora più drammatica però è chiaramente anche la nostra che fortunatamente non è stata drammatica perché diavoluto che la gente fosse in casa ma i danni economici c'è tetti anche rifatti da qualche mese con i 110 che sono stati letteralmente distrutti. Alcuni consiglieri regionali firmatari della risoluzione sentiti dalla nostra redazione ci hanno risposto acquisirò ulteriori informazioni per capire meglio afferma Stefano Scaramelli Italia Viva e ancora Gabriele Veneri di Fratelli d'Italia il territorio della provincia di Arezzo è stato duramente colpito credo si tratti di una dimenticanza visto l'atto che è stato approvato durante l'ultima seduta consigliare. La dichiarazione di stato di emergenza risponde a criteri rigidi afferma invece Lucia De Robertis, partito democratico criteri stabiliti dal decreto legislativo 1 del 2018 non c'è discrezionalità politica, chi sostiene questo è in mala fede avremo comunque modo, conclude la De Robertis, di interloquire con il presidente Gianni che ha a cuore tutta la Toscana.